15 anni fa, io volevo fare la famiglia con gli artisti, paroliere, compositore, produttore, arrangiatore, distributore, no, io vedo che oggi siamo tutti là, Elena, Gianni, Roberto, Sir, Manuel, Mario, Andolè, siamo tutti là, fa 10 volte che lo dico e lo ripeto, perciò non voglio più ne sentire, voglio essere pastore, tranquillo e essere io la pecora quando mangia io, perché il cangele era sempre aperto, allora rientra là, mangio, dopo esce il latte da un'altra persona, non c'è più latte, ritorni da me, mangio e riparto, adesso è finito, il cangele è chiuso, io faccio la pecora dentro, da solo, se tu passa così, ti vedo una volta, due volte, tre volte, lui, buongiorno, che fai tu, vorrei fare questa cosa, se ti trovi simpatico, apri il cangele, entra e parliamo, è finito il mulino, è finito, non voglio più ne sentire, da domani è finito, voglio fare altre cose, e il signore ci permette di fare una bella conferenza.